Siamo a Sanremo, Radio Bruno A Radio Bruno qui in diretta da Sanremo abbiamo per Sanremo Giovani Rachele, benvenuta Ciao, ciao a tutti Rachele rigolosamente con la K, ricordiamolo Assolutamente Senti parliamo un po' di questa canzone che presenterai Tra l'altro i giovani quest'anno inizieranno per primi il festival, una bella occasione Assolutamente Il brano che porterò al festival appunto si intitola Io non lo so cosa è l'amore È stato scritto da me, Tony Bungaro, Cesare Chiodo e Giacomo Runco Che è un giovane autore che fa parte della squadra Parla appunto dell'amore, parla dei miei 19 anni Dell'incapacità di esprimere con esattezza appunto cosa sia l'amore È una domanda che mi pongo ma credo che sia una domanda abbastanza universale Nel senso che magari anche a 30-40 anni ci si pone questa domanda È vero che da questa domanda poi dopo hai ispirato i tuoi produttori per il testo e per la canzone Tu hai detto io non so cos'è l'amore chiacchierando tra di voi Assolutamente sì, questo brano è nato da una chiacchierata Ad una domanda che cos'è l'amore appunto io ho risposto non lo so Abbiamo scritto appunto questo brano per cui mi rappresenta completamente C'è assolutamente una verità che spero arrivi anche dall'altra parte E con questo Sanremo poi che cosa presenterai? C'è in ballo un album, un tour, dei live? Sì 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 Dopo Sanremo c'è il mio progetto discografico Perché appunto oltre ai non lo so cos'è l'amore ci sono 11 brani inediti Che chiaramente seguono il filone elettronico di non lo so cos'è l'amore E appunto il mio obiettivo è quello di andare avanti facendo conoscere il mio progetto E cercare di farmi conoscere Senti Rachele, prima di salutarci È vero che la tua grande passione sono i Coldplay Addirittura hai un tatuaggio con la scritta Fix You, un loro pezzo Sì sì sì, Fix You, dietro alla nunca Perché i Coldplay mi hanno accompagnato durante la mia infanzia Quindi hanno un ruolo molto importante per me Oltre ad essere una band ovviamente favolosa Per me sono una fonte di ispirazione Fix You in particolar modo è la colonna sonora della mia vita Quindi mi accompagnerà sempre e ce l'ho sulla mia pelle Un grandissimo in bocca al lupo E se puoi salutare tutti gli amici di Radio Bruno e Radio Bruno TV Ok, a tutti gli amici di Radio Bruno TV Io sono Rachele con Io non lo so cos'è l'amore Un bacione Ciao